Nessun litigio e nessun rimpasto di giunta a Chieti. Dunque è rientrato, almeno per il momento, la possibilità di vedere Manuel Pantalone e Palo De Cesare lontani dall'attuale maggioranza. La conferma arriva dallo stesso vice sindaco e leader del polo civico teatino, per cui gli impegni presi con la cittadinanza un anno e mezzo fa vanno mantenuti, soprattutto in questo momento storico in cui le risorse derivanti dal PNRR saranno fondamentali per la ripartenza post-Covid. No, sono voci di chi si diverte a giocare a nascondino, direi. Credo che le elezioni a Chieti sia inequivocabile, che le abbia vinte non il centrosinistra, ma il centrosinistra con il polo civico teatino, che è quello che io mi onoro di rappresentare. Magari se c'è stato e se c'è qualche problema ordinario di amministrazione, lo si chiarisce, ci si confronta nei tavoli preposti, nei tavoli politici, perché indubbiamente ci possono essere anche diversità di visioni e di approcci alla macchina amministrativa, ma lo sono sempre nell'interesse della città e dell'amministrazione. Alcune vedute differenti su nomine di dirigenti, ma non solo. Vedi le recenti elezioni provinciali alla base di alcune discussioni accese tra il polo civico e il centrosinistra, che a sua volta smentisce di aver intavolato discorsi con il gruppo dell'ex candidato sindaco di Iorio. Se ne saprà di più a seguito di un incontro di maggioranza, che sarà convocato da qui a breve dal segretario cittadino del Partito Democratico, Enrico Iacobitti. Ed evidentemente su quel tavolo politico, qualora ci saranno delle necessità, saremo disponibili anche a delle valutazioni, ma nell'interesse, ripeto, anche della città e non evidentemente per la necessità, non so esattamente di chi, di volere ridiscutere di poltrone o di nuove, diciamo così, posizioni. Grazie. Grazie. Grazie.